Cari telespettatrici, Cari telespettatori, è lunedì sera, come tutti lunedì siamo qui con voi con il nostro programma Checkup Obiettivo Salute, giunto alla terza edizione, dal salotto di Fisioradi abbiamo ospite con noi il dottor Giovanni D'Agostino. Buonasera. Dottore buonasera, otorino laringoiatra e con lui affronteremo un tema interessantissimo soprattutto per la stagionalità, perché parleremo di otite. Innanzitutto dottore, otite, cosa significa? Ovviamente qualcosa che riguarda l'orecchio. L'orecchio, sì, per otite si intende ovviamente un'infiammazione dell'orecchio, quindi al termine otite va aggiunto qualche aggettivo per specificare un pochettino. Quindi una cosa importante, infiammazione non automaticamente è un'infezione. Infiammazione? No, può essere un'infiammazione che può essere dovuta anche a cause banalmente esterne, come può essere un ristagno di cerume da molto tempo, quindi il classico tappo di cerume che forse è una delle cose più frequenti che possono capitare. Ci possono essere traumatismi legati per esempio all'errato utilizzo dei cotton fioc, che i bastoncini per l'orecchio. Che non bisognerebbe utilizzare. Che non bisognerebbe utilizzare perché non riescono comunque a pulire bene l'orecchio, possono spingere più in profondità il cerume e possono anche eledere un pochettino la pelle del condotto uditivo che è particolarmente sottile, non è molto resistente. Quindi diciamo così, ci possono essere anche traumatismi di natura esterna. Ho visto dottore persone che lo inumidiscono addirittura con la saliva, il cotton fioc. E' una pratica? Allora la saliva è una, come tutte le cose del nostro corpo, insomma è un materiale d'oro, nel senso che è un disinfettante naturale, un antibatterico, un emostatico. Quindi per esempio quando ci succhiamo il dito perché ci siamo tagliati effettivamente ha un senso perché la saliva aiuta a fermare il sanguinamento. Però ecco diciamo nell'inumidire il cotton fioc non ha molto senso, potrebbe aver senso inumidirlo con dell'acqua ossigenata per esempio, per pulire un pochettino la desquamazione della pelle a livello dell'orecchio esterno, ma diciamo così ecco, meno si fa nell'orecchio, meglio sarebbe. Ci sono stati anche un po' di guai, anche delle perforazioni timpaniche da cotton fioc perché inavvertitamente qualche paziente si era scordato, sembra strano, il bastoncino nell'orecchio e poi è andato in giro, è spinto più in profondità, ha lesionato anche il timpano. Quindi bisogna stare un po' attenti. E certo, questi sono comunque dei casi limite, invece quando appunto si parla di otite, quindi di questa infiammazione a livello generale, generico, poi si entra nel dettaglio dei vari tipi di otite. Sì, per otite, allora noi dobbiamo distinguere sostanzialmente l'otite esterna dall'otite media, quindi l'otite che riguarda la parte più esterna dell'orecchio, il condotto uditivo, il padiglione auricolare, comunque la parte più esterna dell'orecchio fino al timpano e la parte dietro al timpano nella cassa timpanica dove ci sono i tre famosi ossicini, martello, incudine e staffa e che è in comunicazione con, per esempio, con il naso attraverso la tuba d'eustacchio, il tubicino che usiamo per stapparci le orecchie quando andiamo sott'acqua, per intenderci, o prendiamo l'aereo, e l'orecchio invece quello più interno, l'orecchio interno, la chiocciola vera e propria che è l'organo nervoso dell'udito. Quindi, una prima distinzione fra otite esterna e otite media, le otiti possono essere di natura batterica, virale, fungina, quindi ci sono vari agenti che possono contaminare l'orecchio e darci una infiammazione a livello dell'orecchio, ovviamente i trattamenti sono diversi, e le otiti poi vanno differenziate in acute croniche, che sono quelle acute che guariscono da sole senza lasciare segno di sé, e le ocroniche invece che sono delle otiti che possono perdurare nel tempo e possono avere anche delle conseguenze un po' più importanti, anche molto importanti a volte. Ha già toccato un paio di temi molto interessanti, quelli del andare sott'acqua e magari di questa pressione, quindi che forza chiaramente la pressione dell'acqua sul condotto uditivo, ma anche gli sbalzi di pressione dovuti all'altitudine. Sì, le variazioni pressorie di solito che siano legate alla pressione dell'acqua quando facciamo un'immersione subacquea, ma anche banalmente senza bombole, uno snorkeling classico in vacanza al mare, oppure quando prendiamo l'aereo e andiamo in montagna, di solito sono compensate dal buon funzionamento del naso e della tuba di eustachio, che riesce a riequilibrare la pressione fra ambiente esterno e cassa del timpano e orecchio medio, diciamo così. Ci sono delle situazioni in cui queste situazioni non vengono gestite bene dal nostro corpo, per esempio se dovessimo andare in alta montagna o prendere un aereo in corso di un raffreddore molto importante, una rinosinusite potremmo rischiare quello che si chiama barotrauma, cioè trauma legato alla pressione, e la otite conseguente, perché la pressione ovviamente crea una mancata, diciamo così il mancato controllo delle variazioni di pressione crea una sorta di risucchio che fa essudare dei liquidi a livello dell'orecchio medio e quindi si crea un'otite media, quella che viene detta otite media effusiva, con perdita dell'udito, dolore, vertigine in qualche misura, e che va ovviamente riconosciuta e trattata. Quindi in questi casi appunto l'otite è una conseguenza del barotrauma? Sì, 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 anche la, diciamo, per esempio adesso che ci avviciniamo alla stagione balneare, un tuffo, lo schiaffo, fra virgolette, dell'acqua che ci può essere a livello dell'orecchio può creare un traumatismo molto repentino che crea un'infiammazione, fortunatamente spesso non grave, però acuta con un dolore piuttosto importante, insomma. Adesso che poi lei è diventato padre da poco, quindi c'è una bambina piccola, l'otite è un po' il terrore di tutte le mamme, perché i bambini sono abbastanza soggetti, più soggetti forse. Per esempio l'otite media è più tipica della prima infanzia, questo perché l'orecchio del bambino non è come l'orecchio dell'adulto, perché la tuba d'eustachio di cui parlavo prima è un organo che nei bambini piccoli si sviluppa un po' più tardivamente, è più corto, ha un'angolazione diversa, è meno angolato, diciamo così, e quindi riesce a compensare di meno le variazioni di pressione. In più nei bambini ci sono anche le adenoidi, che possono andare a tappare un pochettino le tube di eustachio e quindi i bambini con otite media sono una costante, quindi i genitori devono un pochettino gestire, si trovano a dover gestire i bimbi. Io personalmente, la mia figlia per fortuna è uscita dagli anni peggiori, ma quando prendiamo l'aereo, perché già ne abbiamo presi diversi, adesso gli ultimi anni le faccio succhiare il lecca-lecca, che è una cosa che a lei piace molto, ma che aiuta a compensare proprio lo sbarzo di pressione atmosferica. Quindi è una caratteristica dei bambini quella di poter andare incontro a delle otiti medie più o meno ricorrenti e lì il problema è che se sono troppo ricorrenti il bimbo può ritardare l'acquisizione del linguaggio, può sentire meno bene e quindi va risolta subito, repentinamente. E come le risolviamo le otiti, dottore? Le otiti esterne, quelle appunto più semplici, fra virgolette, ce ne sono di virali e batteriche che si risolvono con delle gocce otologiche, semplici, con antibiotico o cortisone, ovviamente l'antibiotico per le otiti batteriche in cui c'è un sudato purulento. È bene sempre, sarebbe bene che il medico, il pediatra, il medico di base, l'otorino visitasse il paziente per vedere se ci sono delle perforazioni timpaniche associate all'ottite perché ci sono alcuni farmaci che sarebbe meglio non entrassero troppo in profondità nell'orecchio. E ci sono infatti anche, credo, dei prodotti differenti fra loro proprio per avere, che hanno questa motivazione nel loro utilizzo. Sì, diciamo che per esempio nelle gocce otologiche l'antibiotico di scelta se c'è un'ottite perforata come principio attivo sono i chinolonici che sono degli antibiotici che non sono tossici per l'orecchio più interno e quindi sono quelli che io prescrivo ai pazienti quando non riescono a vedermi in fretta se ci sentiamo al telefono e devono iniziare una terapia per non saperne leggerne e scrivere, come si dice, se non si sa se il timpano è perforato o meno gli faccio iniziare delle gocce più sicure dal punto di vista della salute. E le classiche goccine antidolorifiche che molto spesso i bambini devono prendere alle 3 di notte perché gli fa male l'orecchio? Eh sì, allora, quelle lì sono i prodotti da banco di primo utilizzo, quelle che in farmacia vengono date e sono spesso su base anestetica quindi servono un pochettino a allenire il dolore. Basterebbe anche il classico antinfiammatorio, ce n'è uno molto famoso che tutti i genitori conoscono che viene dato ai bimbi che ha un'efficacia anche pronta, quindi diciamo così che iniziare con un antinfiammatorio o un lenitivo non è di per sé sbagliato, però poi se il sintomo persiste, se non è legato a... perché poi sul dolore dell'orecchio ci entrano tanti, magari anche quando mettono i dentini, i bambini e se il dolore persiste e c'è un forte sospetto che ci sia un'otita è bene dare un'occhiata e vedere come trattarla al meglio. E in quel caso probabilmente c'è un trattamento farmacologico più incisivo? Sì, sì, non sempre legato all'antibiotico per bocca, anzi quella lì è una cosa che almeno noi ottorini tendiamo a non prescrivere subito, salvo situazioni particolari o rischi di complicanze particolari, però ecco, a volte bisogna instaurare anche una terapia con il cortisone per bocca che fa paura a tanti ma è un farmaco che è assolutamente utilissimo perché per esempio ci sono delle otiti esterne in cui il condotto è completamente chiuso dall'infiammazione e quindi delle gocce semplici non riuscirebbero a entrare. Prima dobbiamo sgonfiare la pelle del condotto per poter far entrare poi le gocce e trattare bene il paziente. Dottore, al di là dell'aspetto legato appunto magari a sinusite, a raffreddori che possono poi portare all'insorgenza di problematiche legate alle otiti, c'è un altro modo di prevenirle? C'è un qualcosa di poter fare? Magari esaspero il concetto a livello anche di fisioterapia, a livello di approccio da questo punto di vista? Allora, fisioterapia non è un termine tutto sbagliato perché fra le varie cause di otite ci sono anche delle problematiche di articolazione temporomandivolare, quindi quando ci sono delle problematiche di articolazione essendo a stretto contatto con l'orecchio e con la tuba deustachio in alcune particolari situazioni, tant'è vero ci sono delle patologie anche geneticamente determinate in cui l'orecchio è sempre coinvolto nelle anomalie del palato, del volto, della mandibola in generale, però tornando a casi più normali diciamo che un'acute integra dell'orecchio è una barriera diciamo sostanzialmente invalicabile, quindi evitare qualunque tipo di traumatismo dell'orecchio con strumenti esterni o addirittura lesioni da grattamento, ci sono persone che si grattano vuoi con le unghie lunghe se sono delle signore, vuoi con oggetti contundenti di vario tipo, la penna, il tappino della penna, le forcine per i capelli, ce ne abbiamo sentite di cotte e di crude, quindi diciamo evitare un traumatismo diciamo in caso di soggiorno in clima marino o se qualcuno frequenta la piscina con una determinata regolarità una buona detersione dell'orecchio, una buona pulizia dell'orecchio e il fatto che comunque bisogna sapere che l'acqua tende un pochettino a macerare la pelle del condotto uditivo e quindi può essere un po' più facile sviluppare un'otite che effettivamente è una di quelle patologie che d'estate ha un rialzo epidemiologico chiaro a tutti gli otorini, ai medici di base, ai pediatri, insomma ci sta, ce l'aspettiamo. E a questo proposito poi questa la consideriamo la penultima domanda perché poi ne farò un'ultima. Come l'è nata la passione per la medicina? Ha proprio in due secondi ha detto tutte le pratiche della medicina. Come si è avvicinata alla medicina e soprattutto a questa branca della medicina? Allora è una risposta un po' articolata che affonda le radici nel passato perché vengo da una famiglia in cui ce n'erano diversi di medici e la medicina è comunque un'arte, se vogliamo chiamarla come viene spesso definita, che affascina. Quindi mi ricordo quando mio babbo tornava dall'ospedale io gli chiedevo che cosa aveva fatto, quando ero un po' più grandicello e effettivamente ho subito il fascino della professione. Non sono stato ostacolato, spesso capita che i medici siano contenti se i figli fanno i medici e quindi sono andato avanti. Dopo la scelta dello Torino è una scelta fortunata, per mia fortuna, perché è una branca che permette diverse sfaccettature, medica, chirurgica, ospedaliera, extra ospedaliera, ha uno sconfinamento con altre branche, la neurologia, la dermatologia, l'odontoiatria, si interseca con tanti altri specialisti, quindi è molto variegata, non ci si annoia. Non è fine a se stessa, quindi è molto ampia e permette anche di interagire con altri colleghi, è bello. E poi l'ultima domanda dottore, casa sua è arredata in maniera moderna o in maniera un po', ce lo faccia dire, antiquaria, anche se è un vocabolo che non dovremmo utilizzare, perché l'abbiamo inventato adesso. Io ho detto proprio antiquaria. Sì, no, a me piacciono le cose d'epoca, quindi è un po' più sull'antiquario, mi piace girare per i mercatini dell'antiquariato, mi piace pormi la domanda a che cosa serviva il taloggetto, magari strano che oggi non siamo più abituati a vedere, mi piace come erano costruiti, perché non è tutta la plastica o l'usa e getta che c'è adesso, c'era del legno, c'era della pelle, del metallo, insomma, spesso sono costruiti in maniera più elegante, più raffinate e li trovo molto affascinati, poi mi piace comunque anche l'ambiente di girare per le città, trovare, scovare cose strane. Il bello è quello, unire il fatto che uno ha una passione, poi la passione per metterla in atto bisogna girare, quindi bellissime città, Arezzo, Anghiari, chissà quante città in Romagna, da dove viene lei, nella nostra regione, a Bologna, no no, l'Italia poi è tutto un museo a cielo aperto e quindi basta girare e ci si diverte, esatto. Grazie dottore, grazie a voi, grazie a voi. Grazie per questa bella chiacchierata, grazie a voi per averci seguiti fino adesso, continuate a restare su Rossini TV, l'appuntamento è a lunedì prossimo. Grazie. Grazie a voi.